buongiorno oggi 9 maggio il sole farà sprizzare di energie e vitalità i nati del segno del toro della vergine e dei pesci porterà un po di acciacchi fisici ai nati sotto il segno dello scorpione e del leone dovete riposare marte renderà menardenti nati sotto il segno delle riete e del capricorno venere provoca tensioni nei rapporti affettivi dei nati nel segno del cancro e dell'acquario il romanticismo è da rimandare alla prossima occasione giove concederà un po di fortuna ai nati nel segno dei gemelli e della bilancia bisogna tentarla e non tirarsi mai indietro grazie per l'ascolto a risentirci a domani e auguri a tutte le mamme